ciao a tutti e benvenuti sul mio canale allora oggi un nuovo video un video tag diverso dal solito si chiama questo tag 5 domande impossibili l'ho visto sul canale di sarahmagic15 ciao tesoro un bacio grande e sono cinque domande proprio semplicissime e che ti mette dei bivi insomma che praticamente devi scegliere quello che c'è la risposta per te secondo te qual è quella più giusta da fare eccetera eccetera ho i capelli che sono un casino scusatemi non so mai come metterli ok ci sono che già questo qui delle domande impossibili l'avevo fatto tempo fa però erano più domande però non erano uguali ovviamente esso non è inutile che faccio un video identica cioè faccio un video identico di gioco fatto di me prea al caso e queste domande qui queste domande impossibili eccetera eccetera una cosa che mi piace tanto mi gusta che devi scegliere no e quindi niente iniziamo subito allora prima domanda siamo nell'era del turismo spaziale ti viene offerto un volo andata ritorno per la luna accetti ovviamente sì a me mi piace molto anche come materia anche a scuola scienze ero proprio tanto affascinata scusate sia per quanto riguardava le piante per quanto riguardava gli animali oppure tipo mi piaceva un po a me anche tipo l'universo astrologia queste cose che mi piace tanto anche i pianeti sono veramente innamorata dell'universo delle costellazioni le stelle eccetera eccetera mi piace veramente tanto e quindi ci andrei dato che comunque dice andata e ritorno non è che dice solo andata rimane in te la luna lì a vita no e ti viene offerto un volo andata e ritorno per la luna accetti sì accetto subito volentieri sarebbe una figata seconda domanda hai davanti a te tre negozi uno di abbigliamento uno di gioielleria e uno di libreria puoi entrare in uno di essi e prendere liberamente dieci articoli quali negozio scegli allora libreria la scarto perché una volta leggevo tanto adesso non leggo più anche se mi piace molto leggere quindi la scarto gioielleria anche la scarto perché non allora io c'ho un sacco di braccialetti anelli orecchini eccetera eccetera ma non non ce la faccio indossarli più forte di me no che mi dà fastidio ma non le porto proprio non fa per me roba dei gioielli sta roba qua sinceramente no quindi la scarto e quindi vado sull'abbigliamento quindi dei tre negozi tra abbigliamento gioielleria libreria scelgo abbigliamento scelgo abbigliamento che l'abbigliamento una cosa che mi piace molto nel senso occuperò cose da vestire una cosa che mi piace sia quello e sia cose ecco dei trucchi queste robe qua perché delle unghie c'ho solo questo sito che è passione unghie che è la mia passione infatti passione unghie passione e mi piace tanto quel sito quindi acquisto solo lì le ero cose delle unghie infatti quando fate caso che faccio vedere i video all e posso fare di caso qualche cosina di smalto così ma le cose proprio per la ricostruzione che serve per la ricostruzione lo faccio direttamente sul sito su internet comunque vado sull'abbigliamento terza domanda sei single e sei corteggiatissima da un calciatore un politico ed un illustre scienziato chi scegli ovviamente scelgo il calciatore quarta domanda sei il nuovo presidente del consiglio quale sarà il primo provvedimento di leggi che proporrai la tutela sulle donne ma proprio vera e propria insomma perché qui dicono tutti che c'è stata tutela ma io ancora non la vedo e appena una donna una signora una ragazza fa una denuncia te già saria da restare subito l'altra persona per dirti da restare insomma per vedere effettivamente certo se quella persona perché c'è tante che può dire cavolate effettivamente quella persona fa tipo stalking se roba qui da fastidio però una tutela proprio vera e propria per le donne quinta domanda e l'ultima puoi avere un colloquio a tu per tu con papa francesco cosa gli chiedi allora il mio papa preferito è stato utila dopo di lui non c'è stato nessun papa che mi piaceva dopo di utila c'è stato colato come ricordo come si chiama non mi piaceva questo è peggio che te peggio non mi piace a mio papa francesco per niente dopo c'è all'inizio mi piaceva dopo quando ha cominciato a parlare che a premi mi tocchi gli animali e io te mazzo cioè mi viene a toccare gli animali no come sapete voi tutti ormai sapete che sono amante di animali vuoi chi me li tocca che lui aveva detto non so se era un'intervista adesso non mi ricordo tempo fa che aveva detto che cani per esempio sono gli animali de satana strobe qua insomma l'una fan trama conca in chiesa per di che ne so non ci ho capito prova detto che cani sono de satana sarà de satana e metterlo il cagnolino di satana faccio tanto bella la mia lady insomma ha detto certe cose sono gli animali o tre queste anche altre adesso non mi ricordo che non mi è piaciuto quindi l'ho scartato subito non non lo posso proprio vedere poi sicuramente quello che fa non mi pare che sta fa niente di altre cose però comunque che gli dico non gli direi niente non è che ne manco ci vorrei proprio parlare sicuramente questo papa però non so ne manco cosa dirgli e che devo dire non lo so caso mai posso dire fatto di animali di oara che non so dovevi ma comunque chi te l'ha detto poi che i cani sono de satana caso mai questo io posso dire sono altre cose non gli dirò niente che non voi manco vedi quindi è brutta dillo perché comunque fa parte della chiesa eccetera il cattolica cristiana come comunque ma però non pratico non c'è senso per me andare in chiesa e andare a pregare perché comunque Gesù o Dio insomma stane dappertutto quindi se ti sento ne fai una preghiera vera e propria che lo senti veramente col cuore lui comunque ti ascolta e anche dentro casa è uguale neanche te fuori neanche giardino a pregare per dirvi quindi io di io almeno la penso così e niente insomma queste cinque domande giusto impossibili finisce qua io sotto l'info box comunque come sempre vi metterò le domande di questo tag fatelo perché è stato molto carino e se il video vi è piaciuto mettete un pollice in su sotto al video se volete mi commentate e noi ci vediamo presto al prossimo video un bacio ciao a e tag a tutti tag a tutti ciao